Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 code per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Sulla FIPILI rallentamenti per un veicolo in avaria tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Sulla strada provinciale 34 di Rosano al chilometro 7500 in località Vallina nel comune di Bagno a Ripoli. Senso unico alternato per lavori che dureranno fino al 23 marzo. A Firenze si segnalano rallentamenti sul viadotto dell'Indiano per un intervento di ripristino dell'anomalia in carreggiata. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!